Il disegno di accoglienza a tutti i costi del PD e della sinistra ha portato a situazioni di degrado spaventoso, alla formazione di ghetti e zone diventate pericolose per i lecchesi che al contrario vorrebbero vivere in una città libera e tranquilla. Quanto è successo al ferrotello e purtroppo quanto ci aspettavamo, come non ci meraviglierebbe venissero accertati i casi di prostituzione o altre forme di sfruttamento di condizioni disagiate. Dura presa di posizione del segretario provinciale della Lega Nord, Flavio Nogara, all'indomane del blitz che ha portato alla denuncia di 33 profughi che spacciavano gli studenti in via Ferriera. L'unico fattore che può portare integrazione nel lavoro e questo percorso di inserimento può essere fatto e dà un senso solo con quella minima parte di richiedenti asilo al quale è stato concesso lo status di rifugiati ma tutti gli altri non hanno diritto di restare sul nostro territorio, sono entrati in modo clandestino e dovranno prima o poi essere espulsi, prosegue Nogara. Ora basta, il ferrotello va svuotato e restituito alla città di Lecco, chi ha sbagliato va espulso e chi gestisce questa immigrazione, oltre che riscuotere deve assumersi le proprie enormi responsabilità. L'intera maggioranza dovrebbe dimettersi per rispetto delle chiesi e per palese incapacità. Intanto il consigliere provinciale di libertà e autonomia Antonio Pasquini chiede che la cooperativa ARCA, a cui è affidata la gestione del ferrotello, risponda di omesso controllo. Quando avvengono episodi simili ai locali pubblici spesso viene sospesa la licenza per evitare ripetersi di situazioni di illegalità. Infatti il TULPS, all'articolo 100, riferimento ai gestori di locali pubblici, prevede sanzione a tutela dell'ordine pubblico in luoghi dove si configurano situazioni di pericolo per prevenire ed evitare risse e spaccio. Ebbene, chiedo al questore di valutare l'ipotesi di cui sopra, con relativa sanzione alla cooperativa, non si può tollerare che vi siano zone franche in città, conclude Pasquini. Grazie Grazie